Allora con noi Paolo Pisana con, rappresenta, ALAC, Associazione Livri e Amministratori di Condominio Pisana buongiorno, grazie per essere con noi Quando ci raggiungete qui a Primo Canale ci anticipate spesso delle notizie importanti che riguardano tutti noi e vogliamo tornare sul tema delle direttive europee per le nostre case per le case compatibili con l'ambiente e quindi la classificazione delle nostre case cosa chiede l'Europa? Allora la direttiva che è stata approvata in prima battuta ma necessita di un passaggio successivo e poi dagli stati membri che la devono recepire prevede che entro il 2030 ci sia un passaggio alla classe E e entro il 2033 alla classe D e entro il 2050 ma lascerei perdere perché siamo troppo in avanti la classe A che riterei che poi ci sarà più A, più più Il problema è che nel momento in cui verrà recepita dai governi si dovranno affrontare quelli che sono gli argomenti che riguardano in gran parte il patrimonio edilizio italiano cioè lasciando perdere il discorso storico architettonico di pregio le costruzioni fino al 1945 alcuni prevedono l'impossibilità proprio tecnica di poter fare degli interventi in altri casi c'è la problematica che essendo la maggior parte degli edifici in classe G la più bassa facendo tutti gli interventi possibili e immaginabili si potrebbe arrivare al primo step quindi sappiamo in partenza che oltre non si può fare quindi bisognerà stabilire di questi edifici che cosa bisognerà farne perché se uno investe sapendo già che comunque dopo tre anni nel 1933 è già fuori norma quindi direi che sono tutte queste problematiche questo è un aspetto tecnico poi se vogliamo entrare nel merito dell'aspetto finanziario bisognerà stabilire anche chi ci mette i fondi come vengono distribuiti in che modo perché poi alla fine quello che conta facciamo tutto ma chi paga? noi siamo costretti praticamente il cittadino io dico italiano siamo costretti a rinnovare le nostre case per averle sempre più green questo è l'impatto ambientale cioè le emissioni che genera la nostra casa per avere sempre più green ma ricordando però che l'Europa è grande ed estesa gli stessi climi i climi che ci sono da noi sono climi già diversi da quelli che ci sono insomma bisogna considerare tante cose diverse che riguardano i nostri appartamenti senza altro significa mettere mano al portafogli in maniera pesante sì però considerando che diciamo la proprietà edilizia in Italia è diffusissima diciamo che circa una percentuale del 70% però come suddivisa nella maggioranza dei casi tra i mutuatari e persone di una certa fascia di età ora io così è una mia teoria per carità presumo che una persona di 70 anni per fare un esempio andarci a investire 30, 40, 50 ammesso che li abbia andarci a investire delle risorse su questa cosa qua la vedo alquanto ipotetico e beh sì effettivamente e dall'altra parte anche chi ha il mutuo che già stamattina c'era un articolo che cominciava a far intravedere la bolla dei mutui perché qui stanno schizzando alle stelle c'è pure quello pare di sì perché se i tassi aumentano chiaramente adesso se tu pagavi 500 ne comincia a pagare 700 cioè il costo del danaro cioè per prendere il danaro costa questo io te lo vendo però ti costa tot e sì se io ho una rata di mutuo dal 500 ma la trovo da 700 è chiaro che io ho fatto i conti su quello che erano le mie trazie secondo l'Europa questa che ha rincarato il costo del danaro è una misura anti-inflazione come dire guardate che bravi che siamo adesso ce lo pagate di più così ne prendete meno io per come la vedo andremo nel momento in cui sarà recepita dal governo poi andremo di deroga in deroga e chissà quando quando ne vedremo ora significa cioè la compatibilità ambientale della casa praticamente sono che cosa significa il mantenimento del calore normalmente quali sono i fattori sui quali si investe l'obiettivo è quello di arrivare a zero emissioni ok quindi ridurre le emissioni però vede l'Italia già da sé probabilmente chi ha una casa non so di qua Siracusa non deve neanche accendere il riscaldamento cioè non deve neanche mantenere il caldo in casa magari alla casa è classe G chi se ne frega scusate il francesismo emissioni non ne ho ma diciamo che queste direttive hanno più che altro mi pare così forse sbaglierò ma più una cosa ideologica di perché non è una cosa pragmatica è uno fissa degli obiettivi per raggiungerli e comunque si scontra con la realtà se tu non affronti questi temi puoi fare tutte le direttive che vuoi ecco vede mi scrivono potete anzi io non ve l'ho detto telespettatori ma una telefonata potete anche farla potete anche chiamare buongiorno Cirone per quanto riguarda le nuove normative europee mi chiedo come si fa a fare una legge uguale al nord Europa con un clima freddo ad esempio la Sicilia e sì quello diciamo prima o anche in Italia dove ci sono almeno 10-15 gradi di differenza sì però è proprio quello cioè nel senso che la direttiva è di carattere generale la direttiva europea poi il governo nel momento in cui recepisce la direttiva per renderla praticabile dovrà eliminare e diciamo fare in modo che sia sviluppare nuovi che sia fattibile perché poi ripeto si fanno le cose che si possono fare ho sentito il telefono Filippa per noi proviamo pronto buongiorno dottor Cirone buongiorno buongiorno Marco 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 quello dei cimiteri così ci siamo sincronizzati Marco di pini storti dica no volevo chiedere una perplessità no ma se vengono recepite queste norme europee e dobbiamo fare tutti questi lavori ma tutte le imprese dove troviamo le imprese che possono fare tutti questi lavori perché edifici anche questo è vero ma io non ci avevo pensato ma non è neanche fattibile è un bel ragionamento centinaia di migliaia di edifici come fanno si è un bel ragionamento è vero è un bel ragionamento la direttiva è una perplessità così volevo partecipare grazie 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 non so se c'è una risposta si c'è una risposta nel senso che bravo il governo nel recepire questa direttiva per rendere affattibile deve anche stabilire il riperimento dei materiali piuttosto che della mano d'opera perché è chiaro che se tu devi dar corso qui parliamo di milioni di immobili non è che sono cioè cosa vogliamo dire che se si buttano tutti a fare mancheranno sicuramente i materiali e la mano d'opera quindi di conseguenza come vanno le cose lo sappiamo ci sarà i prezzi che costano schizzeranno le stelle diventeranno incontrollabili quindi però io vorrei tranquillizzare tutto sul fatto che adesso facciamo brighiamo però ripeto prevedo deroga deroga su deroga perché poi la realtà italiana è diversa è un fatto che merita l'attenzione sono cose che dobbiamo sapere sì 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 perché la gente comincia a preoccuparsi perché non entrando nel merito leggendo devi fare entro il 2030 non mi fa allo stato dei fatti questa situazione comincerà a essere un limbo che praticamente al momento può bloccare anche tutto cioè nel senso che l'edilizia è bloccata perché uno deve ristrutturare come ristrutturo ok faccio questo benissimo lo faccio poi tra tre anni cosa faccio demolisco il palazzo ci sono queste cose qua non è facile non è facile ed è un tema assolutamente in divenire possiamo dire che chi è già in classe 3 beh ci sono in classe E già bene sì sì chi è cioè se siete siamo già la vostra casa in classe E bene dovrà aspettare il 2050 per arrivare in classe A ma già sappiamo che non è impossibile comunque se vogliamo chiudere sì in bellezza sì con un pensiero positivo nel senso che la transizione ecologica tutto per carità tutto a posto ci vuole pragmatismo però in Italia a mio modo di vedere non è questo il problema in Italia il problema è mettere in sicurezza gli edifici perché io posso fare tutto quello che voglio ma se piove mi viene tre metri di acqua in casa piuttosto che se viene una scossa di terremoto mi crolo la casa in testa quindi voglio dire per quello che penso che sia più una cosa ideologica che poi nella realtà lascia il tempo allora guardi scrivono non per fare dietrologia ma mi pare di capire che a monte di tutto questo ambientalismo e questo grinci sia il business come dietro la cosiddetta ultima generazione sono stati scoperti miliardi di finanziatori tra i più ricchi della terra insomma c'è movimento basta la notizia della settimana scorsa sul blitz che hanno fatto a Monaco di Baviera che hanno arrestato X persone di questa questi ecoterroristi poi alla fine hanno detto che volevano sabotare comunque pare da quello che si è letto che hanno sequestrato un milione 400 mila euro quindi voglio dire ragazzotti o persone che hanno quei fondi lì qualcuno non credo ci sarà un finanziatore occulto allora telefonata mi va bene quando partecipate anche a queste discussioni pronto buongiorno sì buondì sono niente sono innanzitutto complimenti per la trasmissione che è molto interessante e voglio soltanto dire una cosa è una barzelletta ma assicuriamoci un attimo che già adesso ci sono un sacco di condomini che non riescono a pagare le varie spese mi scusi un attimo ma se per caso è un grande condominio ci sono tre o quattro che non hanno neanche i soldi come fanno a fare i lavori chiedo soltanto questo grazie buongiorno le chiedo ecco facciamo così anche le chiedo Pisana com'è la situazione perché l'amorosità in condominio forse sono due anni che oggi migliora io ho omesso di parlare della questione proprio scendendo nel particolare l'ho tralasciata è chiaro che se si ricollega al fatto di chi ci mette i soldi si arriva a capire che con l'amorosità ad oggi che siamo intorno al 30-35% chiaramente non è possibile di che parliamo non è possibile proprio poi se si ricolleghiamo al fatto che è una persona di una certa età che ha l'appartamentino lì ha quattro risparmi non gli va certo investire lì oppure comunque non ha neanche la possibilità di farsi finanziare perché chi lo finanzia a quell'età lì mamma mia mamma mia allora vi state chiamando tantissimo vede qua Pisana al cellulare dei whatsapp purtroppo non vi posso rispondere perché sono in presenza salve della direttiva europea ringraziamo 5 stelle deputati europei che hanno votato con enfasi non voglio fare complottista però insomma in questo caso entrano in gioco i grossi gruppi immobiliari che a quattro soldi acquisiscono le proprietà e poi le rimettono nel circuito a prezzi affitti fuori dal mondo beh è chiaro che si può creare un cartello sì però lì allora facciamo un paradosso per un paradosso sì non vengono più pagate le rate dei mutui ok sì la casa non è adeguata se è vero che la direttiva dice che non potresti vendere piuttosto che affittare allora in quel caso lì la banca cosa si ritrova in mano si ritrova dalla carta una casa che deve a chi rimodernare insomma esatto io dico rimodernare chiedo scusa dovrebbe dovrebbe intervenire per accolarsi la spesa per poterla poi poi vendere bravo quindi capisce che si crea un mutuo no 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 si crea un meccanismo perverso che non interessa a nessuno ma di fatto telefonata direi l'ultima siete quando siete così partecipativi mi fate veramente tanto tanto piacere pronto pronto buongiorno sono Mario Mario Dica dunque un tempo prima della guerra fino al 1950 venivano mandati disoccupati sulle colline di Genova a fare l'imboschimento ora visto che esiste il cambiamento climatico poniamo il caso avendo una pioggia torrentiale in queste colline tutte asfaltate cementificate cosa cadrebbe a valle? ok vabbè disboscamento si qui si può ricollegare al discorso che ho fatto prima che in Italia più che questa direttiva rispetto alle missioni sarebbe il caso di intervenire sulla sicurezza degli immobili perché appunto come abbiamo visto in Emilia ti entrano tre metri d'acqua in casa oppure se viene una scossa di terremoto ripeto ti crolla la casa in testa puoi avere zero emissioni che poi alla fine comunque insomma Pisana l'importante queste cose ce le siamo dette ci siamo anche detti non allarmiamoci insomma più di tanto perché nel tempo però in effetti si può mettere in moto un circuito perverso che può condizionare anche poi chi ha il danaro così come le banche e beh certo assolutamente assolutamente e quindi insomma grazie per questo contributo grazie ad Allac associazione liberi amministratori di condominio genovesi genovesi diciamo che siamo in tutta Italia va bene sono in tutta Italia lei è il vicepresidente sono vicepresidente benissimo allora andiamo in regia telespettatori